Ciao a tutti e benvenuti qui con questo nuovo video, benvenuti a un nuovo episodio della serie benchmark del mio computer fx8350 con una gtx asus 760 overclock naturalmente questa volta siamo su titanfollow con il suo vecchio motore engine anche se il motore è abbastanza vecchio però è stato anche rieditato molto modificato quindi è sempre molto valido e sul mio computer gira al massimo fluidamente a 60 fps con fraps attivo e senza normalmente e va anche sopra e quindi volevo dirvi che questo gioco il mio computer ma penso anche 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 altri computer molto più bassi del mio vanno abbastanza bene per questo gioco non serve un computer super sonico insomma ma ne basta uno abbastanza decente tipo anche quello che ha mio fratello con una fx 6300 non overclock e un hd 7790 quindi computer quindi per questo gioco non è che serve molto potente ma per averlo al massimo diciamo per il resto il gioco è molto valido anche perchè lo stile combattimento e tutto sono molti diversi da un semplice fps e adesso vedete che praticamente vado in giro per tutta la città con sparando padrucati in giro ai titanfall insomma ai titan scusate e praticamente io lo vedendo un gioco molto bello e divertente visto che potete saltellare in giro ovunque sopra i titan mi è capitato qualche ucciso nel gioco c'era poco sopra i titan è una cosa assurda troppo fico poi altro da dire che il gioco si trova adesso anche a poco su pc mi pare di 25 euro in giro su internet e quindi è molto valido il video sta qui per finire quindi ti saluterei ci vediamo al prossimo episodio ben giro marco ciao